Prima stavo giocando nel mio mondo di minecraft, ma ad un certo punto è successo questo Cos'è stato? Questa una volta era a casa mia! Ai ma per favore! Ci avevo messo così tanto per costruirla, era così carina! Cosa c'è scritto qua? Vattene, oppure Mano penserà a mandarti via E poi qua c'è scritto controlla 85, vabbè insomma quella roba là Magari ci vado adesso, e poi qua c'è un ascensore Vabbè allora prima andiamo di là Ok, ehm... E qua E qua effettivamente c'è un ascensore Il che mi preoccupa, vediamo E ci sono dei fiori per terra E qua c'è scritto Sono Mano, mercoledì mi sta tenendo prigioniero Cosa? Per capirci qualcosa ritorna? Dove è esplosa casa tua? Trova l'ascensore, fai in fretta Beh l'ascensore non è difficile trovarlo Eccolo, vedete l'ho trovato Ok questa è una mineshaft Però mi sembra una mineshaft anche questa modificata Perché qua ci sono dei blocchi che io non conosco Che scusate un attimo, voglio vedere che caspita è Questa è una stone lamp C'è una lampada di pietra Che tecnicamente non c'è nel mondo di Minecraft normalmente Però vedo che qua c'è un pulsante Quando si premono i pulsanti dovete sapere che è sempre una pessima idea Non fatelo se non conoscete qual è il pulsante ovviamente Però io dovrò farlo Perché sennò questo video non va avanti Quindi ho sentito qualcosina E scusate questo è il filtro strano Aha! Avete capito? Si è aperto questo posto? No che figata Ma dà fastidio il filtro che ho messo Scusatemi perché non vorrei che desse fastidio Allora ho trovato queste trap Cioè ho messo queste trap Adesso tecnicamente faccio così Ok perfetto posso entrare qua Solo che io ho un po' di pauretta eh Ok Allora andiamo avanti E qua c'è un ascensore e un altro raga Boh saliamo raga vediamo che cosa c'è No! No! Mercoledì! No! Mercoledì! Mercoledì! Ehi! 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 No! Mercoledì! Ferma! Ferma! Allora io capisco che tu sei arrabbiata Mannaggia! No! Vai via! Non puoi venire qua! Allora Mercoledì calma gli spiriti Ho capito che sei arrabbiata per un qualche motivo Ma non uccidermi per favore Ma non ci ritornerò mai più Andiamo a vedere che cosa c'è qui Io adesso sono curioso di sapere che caspita c'è scritto in quei cartelli Perché vedo dei cartelli davanti Ed è abbastanza difficile perché io con il parkour non sono molto bravo Anche perché qua se cado ci muoio sicuramente Ora sei bloccato qui per sempre Sei obbligato a andare via da qui No! Cioè non sono bloccato qui per sempre Come ben vedete Mercoledì ti sei un attimo sbagliata Come diavolo avevo fatto a non vedere queste cose prima Beh in questo modo ci sono più misteri del dovuto Scrivetemi se vogliamo continuare con il segreto di Mercoledì E della sua stupidaggine evidentemente Perché scusami ma Cioè Potevo scendere